Un sit-in dei residenti nel rione di Predistrada Nuoro per chiedere chiarimenti all'amministrazione comunale sull'installazione di una nuova stazione radiobase per la telefonia cellulare in via Franicola da Gesturi, una traversa di via Lollove, ha promosso un comitato spontaneo di cittadini coordinato da Paola Pitalis e Marco Usai, che tra l'altro abitano nelle vicinanze dell'installazione in costruzione. Alla manifestazione ha preso parte una delegazione dell'Associazione La Voce dei Nuresi, guidata da Fabrizio Melis. Quello che oggi vorremmo dire è che innanzitutto vorremmo capire quale sia la necessità di questo intervento considerando che c'è un'altra stazione in via Logudoro, quindi a breve distanza. Poi ci sono alcuni aspetti comunque da mettere in luce, come ad esempio il fatto che non ci siano dei cartelli, quindi il posto non sia assolutamente in sicurezza, non si capisce quale sia la tipologia di intervento, quale sia la ditta, quali siano i responsabili sulla sicurezza. Quando poi di fatto sia stato fatto, considerato che noi abitiamo qui accanto e non abbiamo visto movimento mezzi fino praticamente a stamattina quando è stato montato questo palo. Quindi presumibilmente questo intervento è stato fatto così, in maniera abbastanza silente, in modo tale che nessuno se ne accorgesse. Queste risposte chiaramente vorremmo averle a questo punto dalle varie parti coinvolte e auspichiamo che possano avvenire al più presto.